Ben ritrovati a Visioni Talk, 17 di ottobre 2024 per una nuova edizione di Visioni Corte International Short Film Festival con ospiti sempre per parlare dei film in proiezione. Con me ho l'attore Enzo Saponara, tra l'altro ben ritrovato Enzo. È un onore tornare a Gaeta, sempre. Per un film di Adriano Giotti, che salutiamo anche se non è qui, Turisti, possiamo dire qualcosa sul tuo personaggio? Sì, il mio personaggio si chiama Pino, Pino è insieme a Sandrino in vacanza con le mogli, conosce Giorgio, questo connazionale, insieme fanno gli italiani all'estero. Gli italiani all'estero possono essere divertenti, possono essere anche un po' equivoci. Ok, quindi un po' inquietante questa cosa, adesso mi voglio però di guardarla sicuramente. Grazie a Enzo Saponara, Turisti, questa sera le proiezioni dalle 20.15 qui presso il Cinema Teatro Arison a Gaeta.